Stop alle multe a catena per eccesso di velocità. Il senso della riforma approvata ieri alla Camera è questo. Se su un tratto stradale gestito dallo stesso ente prendi 10 multe in un'ora, potrai pagare una sola multa aumentata del triplo. Ma ciò solo a patto che sia più conveniente per te nel senso disposto dall'articolo 198 bis del Codice della Strada. Questa regola è stata pensata per evitare situazioni in cui un conducente possa essere punito più volte per lo stesso comportamento mantenendo però un deterrente contro la guida ad alta velocità. Non sono mancate ovviamente delle critiche perché da un lato si dice che così stai autorizzando qualcuno che ormai sa di essere stato beccato in eccesso di velocità e quindi può guidare come un pazzo un'ora intera generando così ulteriori pericoli. Dall'altro quindi si accusa il governo di ignorare gli appelli dei familiari delle vittime di sinistri stradali. è il diritto e la politica che stai.